Ma come me lo ricordavo ancora, forse era l'unica, nonostante i suoi modi, nonostante le sue... ...e anche umani era l'unica forza che ha lasciato nessuno. Sì! No, 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 no. No, no, no. Ma dammi una cazzo, si... una caparra all'inizio. Ah, sì, sì, mi riuscite. ...c'è nessuno lo fa. ho fatto un po' dei mazzo che ci chiamano il mazzo ho messo il giornale che faccio il mio portello con il giornale c'è lui, tu hai ricordi o quanto? con il fruttoio 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 e ti ricordi quando per feste quando sono lì a fare il zio quando c'è un marano si intenta a postare proprio si pararia a botto in un laboratorio inglese? nooo no nooo poi ci cerca di pucci botta a f钵 ho diventato di frecci il fruttoio Ivan Depras dai ricordi ho vinto una strada del trattamento dai ricordi è sicuro di questo è mi pare l'aria con la catania cosa ci vuole ha visto del genere è mario pipolo Allora mi tenerebbe una posta che era da stacca Sin a solo... E non solo.. Andate a dire Sin a solo.. Sin a solo... Sin a solo... Bustine! Non è andata una paria Mi piacevoio che leggeresti e che faccio? E' come il bello caciasi che ho fatto già Ho fatto il bussaggio, trovate il bambino Di due cadveri Un po' che riesce a fare non dimenticare Ahahahha La cosa è più bella Ah ma se ce la faccio non era qui Anche una storia. Non mi chiede più a me. Non mi chiede più a me. Sì, ma la persona è sempre un po' come il cervello. Si da una merda! Non lo hai capito, non si fa una merda! Ma lo vado a sfugare! Ha vinto che inizi a sfugare, la casa nel mio scopo c'è anche di solo la pasta. Tu non faccia anche se non mi fanno a fufeed, mi fanno a fufeed. Che ci si usano? Che a te ci sono vicine se fanno a fissare! E' il mio macchie, che si sta in processo e non lo vado a sfugare! forse non è un po' ma non devo ricordare capite, lo vieni fa alle persone, sdago e ti ricordi quando è? non sono pazzi, non è pazzi, a te più me piace, 4 e 6 ti sai scende e allora chi era? ma che ti ricordi? carunzo? carunzo, carunzo ma come cazzo? carunzo, come? ma come cangorda? mi fa vengono, ma sta morenda certo No, no, Caruso già... Caruso è quello che noi alluccavamo in decorritorio. Caruso, Caruso. È un ottimo professore. È una persona, moglie e figlia da voi. L'anno scorso. La sei mia sorella. Però è... Ti ricordi quando Peppe si giocava in una coppa balcone? Perché tirai l'aereo... E perché quando si mette... E quando Peppe si sennette... ... un po' da sdraio... E' un bambino. E' un bambino. E' un bambino. E' un bambino. Che c'è se... E' un bambino. Ma dove vuoi? Ma hai un bambino? spesso la gente che mi sa per favore per favore macchina la città la città non muovare ma non muovare città e ti ricordo quando facciamo la cena con i professori che per pesce spurtare champagne bambina avversere religione adime e andai ricordo che di una facetta parte per te no 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 il quale è una parola e la mia vita non è un'ora non è un'ora non è un'ora a te mi è durata la mia vita non Questo è uno che ha già fatto, ma è proprio un esforzo. Come ho? Perché io ti ho fatto, un esforzo? Wow, oshiniz si è un esforzo. Oshiniz si è un esforzo. È un esforzo che non ho parole. Ma è un esforzo che non ho fatto, non ho. No, sempre è un esforzo. Oshiniz. Ma io non ho ancora lavorato, non ho già. Ma che è un esforzo? ma chi lo so niente in casa? Chi lo per un anno non ha vissuto in casa? Ma tu sai, Michele, ho stato fatto che Peppe so niente in casa? Eh, io chiappa, farò all'università, ricettario... Dici, Peema, quanti siamo? Eh, no, 10, perché... Beh, ho avuto i problemi, sono andata a vivere fuori casa, me ne so scappato di casa Ma sono domani una mezza cosa Olympia Olympia Olimia E ti ricordi? Magari perché... C'è la mia vita Che sta a ten�... Magari che ti sei fatto? Magari perché ti sei fatto Paolo sempre Se tu vedi cosa so, mi pareva alguna cosa La te la sento? E tu hai detto che... Potreste vedi più amicrante No, per tornare tutti Poi per l'altro giorno io parlavo i miei senti a televisione e tu amare che dicevi tu in una scuola quindi... e ti dicevi... oh, mi guanni a me mamma, guarda, dicevi... il fatto è che io certamente ve lo sanno ancora gli altri no posturiamo a 500 anni che hanno fatto io ero in una scuola no, io non chiamo ai scuola nel momento in solito tu dici, a quel punto io mi metto come... nel momento in solito quante pesci? nel momento in solito tu mi metti proprio come si ricorda mi si pavola tu mi metti tu giuri? io mi sono dipendendo al 60, 60, 60, no? Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Cristian, Dario, Zinno e Parascando Anno 95 Mario è 96 Io è 96 97 97 Ma chi? Angelo, ma chi? Andiamo, andiamo Tu, qua, mani Stanno Stanno E' un gioco E' un gioco E' un gioco Il gioco Com'è, Gian, Argentina Se volete A fare ci sei E' un gioco 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 Cosa E' un gioco E' un gioco Siamo E' un gioco Cosa Ah Ma l'università è proprio dal punto di vista pratico, studi cose pratiche, come tagliare gli atti, insegnate pure, no? L'esame di disegno non ti insegna, insegnate, pratica poco. Ma l'esame di disegnare è un'esempio di 60 anni, nel senso che la moda è un'esame che la moda, è un'esame di calcio.